Ciao a tutti di Raffaele e benvenuti a questo nuovo video. Come al solito prima di iniziare iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Bene, come credo abbiate potuto intuire, oggi parliamo di Star Trek Discovery. Infatti è tanto che attendevamo l'arrivo della terza stagione di Star Trek Discovery, soprattutto per come era terminata la seconda stagione, ovvero che Michael Barnum con la tuta temporale seguita dalla Discovery sono partiti per il futuro in questo wormhole, in questo tunnel temporale e chissà che fine hanno fatto. Quindi ieri su Netflix è arrivato il primo episodio della nuova stagione, della terza stagione, e quindi lo voglio commentare insieme a voi dopo averlo visto. Vi avviso, essendo un episodio, sarà pieno di spoiler, anche perché, diciamo, dopo averlo visto, diciamo, se non si fa spoiler non c'è molto da dire. Quindi, se non l'avete ancora visto, tornate a vedere il video dopo, oppure se non fanno problemi di spoiler, continuate a vederlo. Bene, cosa dire? Allora, questo episodio è il primo della terza stagione, dovrebbe essere un episodio che introduce questo, diciamo così, nuovo universo in cui si svolgeranno le avventure della Discovery, perché appunto, da quello che si è sentito, da quello che è stato detto, la Discovery arriverà nel futuro, in un futuro imprecisato, in un universo, in uno spazio imprecisato, in cui la federazione non esiste più, o comunque, diciamo, non è più la federazione che ricordiamo tutti, e quindi ci sarà questa lotta alla sopravvivenza della Discovery, un po', diciamo, sulla falsariga di Voyager, perché appunto, in questo modo, la produzione si toglie davanti tantissimi problemi di continuity, della timeline di Star Trek, senza andare contro il canon e tante altre problematiche che sicuramente hanno incontrato in questo periodo e su cui i fan sono molto precisi, a volte anche un po' troppo puntigliosi, però, effettivamente, poi a volte si va a fare un po' di casini, finalmente hanno capito che forse devono ambientare le serie oltre nel futuro, cioè, perché continuate a farmi i prequel? Va bene. Questo, forse l'hanno capito, vedremo come va questa stagione. E quindi, c'è, questo episodio dovrebbe introdurre, inizia ad introdurre questo nuovo universo, e essendo quasi poi alla fine diventa una nuova serie questa terza stagione di Star Trek Discovery, per come è stata pensata, in tutti i primi episodi degli episodi pilota delle varie serie di Star Trek si introducono un po' l'ambientazione, ma principalmente i personaggi. E mi aspettavo anche, diciamo, questo, visto che comunque ci saranno personaggi nuovi in questa nuova stagione, e non ci sarà solo l'equipaggio della Discovery, ma sono stati pronunciati molti personaggi. Questo episodio di oggi, praticamente, è un episodio vuoto. Completamente vuoto, perché alla fine l'episodio, si svolge tutto tra questi due personaggi, Michael Barnum, il comandante Michael Barnum, appunto, della Discovery, che arriva con la tutta temporale su questo pianeta, e quest'altro personaggio nuovo che dobbiamo conoscere, Book. E tutto l'episodio si svolge con questi due personaggi, cioè non sappiamo nient'altro, completamente vuoto, un personaggio completamente, anche abbastanza ambiguo, in cui, onestamente, ho visto cose abbastanza contrastanti, cioè, all'inizio sembra un un mezzo bastardo che consegna a Michael per i fattacci suoi, i contrabbandi suoi, sì, le attività di contrabbando che stava avendo a questi a questi orioniani, andoriani, e poi, di colpo, verso, dopo un po', scopriamo quasi che è un santo che sta, che gira per la galassia cercando di salvare gli animali. Quindi, è abbastanza strano questo personaggio, anche questa cosa del salvare gli animali e poi te ne freghi delle persone, inizialmente, mi sembra abbastanza contraddittorio come cosa, per non parlare dei siparietti abbastanza sciocchi di Michael che viene mangiata dal verme gigante e lo convince a sputarlo, cioè, questo personaggio inizialmente mi convince pochissimo. Tutto l'episodio è incentrato sul presentare lui e un po' il rapporto con Barnum, ma veramente, con Michael, ma veramente, l'episodio rimane completamente vuoto, noioso, con pochissima pochissima trama alla fine, cioè, una trama veramente scialba, se non poi questa giunta finale che è proprio veramente attaccata lì con questa grande maestosità della flotta stellare che ritorna dopo, così, all'improvviso come se nulla fosse, avendolo ignorato per tutto il tempo. Con questa parte così altisonante alla fine che vorrebbe essere una parte che cerca di attrarre facili sentimenti da parte del pubblico, ma mi sembra abbastanza attaccata lì con questo personaggio che è dedito alla federazione da 40 anni senza aver saputo niente della federazione, ma solo con quello che gli ha trasmesso il padre arriva a Barnum così dal nulla e lo rende quasi membro della flotta stellare, questa cosa con la bandiera, abbastanza diciamo sentimentalismo forzato che non serve a niente. Questo in teoria dovrebbe essere un episodio doppio, almeno dal titolo c'è parte 1, però comunque è sempre abbastanza conclusivo e che sembra abbastanza brutto, cioè se la stagione va così, cioè chiudiamola subito perché è veramente uno dei più brutti episodi che ultimamente posso ricordare perché è veramente vuoto. altra cosa che assolutamente non mi convince o comunque mi ha convinto poco allora siamo mille anni nel futuro quindi gli sceneggiatori devono pensare a una tecnologia che è mille anni nel futuro rispetto a quella della federazione che tutti conosciamo ai faser tricorder schermi tattili console tattili e invece diciamo abbiamo alcune queste quelle che si vedono nella diciamo sì nella console della nave di book diciamo con queste specie di ologrammi che si sollevano possono essere abbastanza credibili come tecnologia ma che diozia sono quelle armi che si sono inventate con cui combattono cioè adesso delle delle ventose grosse così cioè anziché il faser da essere piccolo così si fanno delle dei raggi e poco credibile e poi questo inseguimento che non si capisce il teletrasporto e si trasportano da un pianeta all'altro e vengono inseguiti sempre poi no sott'acqua non vengono rilevati cioè mi sembra abbastanza poco credibile come tecnologia quindi su questa cosa qui lascio un punto interrogativo perché temo che il fatto di andare mille anni nel futuro rischierà un po' di farci vedere tecnologia un po' ridicola pur di distanziarsi molto dalla tecnologia della federazione quindi conclusione episodio deludente l'attesa non è stata ripagata da tutta questa attesa che avevamo la speranza di vedere qualcosa di nuovo è ben fatto è stata assolutamente diciamo annullata dall'episodio che invece è veramente non mi è piaciuto assolutamente speriamo che nei prossimi in cui penso arriverà la discovery con gli altri dell'equipaggio la qualità si risollevi un po' e queste diciamo questi episodi così vuoti e noiosi vengano lasciati da parte altrimenti è una stagione già condannata appena iniziata io diciamo spero voglio essere fiducioso perché questo episodio assolutamente non mi ha convinto però sappiamo sempre che i primi episodi in cui si inizia qualcosa di nuovo si stenta sempre un po' vediamo vediamo come va e sicuramente arriverà la recensione poi a fine stagione per vedere se la la serie si è risollevata oppure è stata un flop tutta quanta noi comunque ci risentiamo presto alla prossima recensione ciao e buona serata ciao